Il Movimento 5 Stelle è uno strumento da utilizzare per arrivare a gestire in modo diretto, senza segreterie, la cosa pubblica. Un programma chiaro, né di destra né di sinistra, solo buone idee. Se volete impegnarvi in prima persona mettendoci la faccia, venite, venite. Stiamo facendo una squadra che ha l'ambizione di governare il Comune di Carrara e siamo convinti di potercela fare. È un treno che sicuramente questa volta passa e noi ci saremo, perché questo è un momento storico in cui noi abbiamo il dovere morale, l'obbligo etico morale, di dare il giro a questo sistema. Dico a tutti gli attivisti, ma soprattutto a tutti i cittadini che guardano incuriositi quello che può accadere davanti a un cambio di amministrazione con uno spirito come quello che tutti noi del Movimento 5 Stelle portiamo avanti, che cambiare è possibile. Siamo sempre propositivi, portiamo sempre idee per il bene di questa città, per il bene comune. Noi siamo le persone più contenti del mondo quando c'è pieno in Consiglio Comunale, quando c'è pieno di cittadini delle commissioni. E mi raccomando, venite alle nostre riunioni, non ci lasciate soli. Grazie. Però poi ho pensato, ma se io non mi occupo della mia città, chi mai potrà occuparsi di me? E lì mi è venuto il dubbio e ho cominciato a fare banchetti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.